Siamo giunti anche al termine della quarta tappa, siamo partiti da Scigliano dove il sindaco Raffaele Fane ci ha ospitato in quel posto, in questa località fantastica. È stata una tappa molto particolare e impegnativa perché abbiamo attraversato tratti di salita in mezzo a posti fantastici, poi con questa nebbia che è calata ha creato un'atmosfera veramente unica e suggestiva. È stata un'esperienza per tutti i partecipanti incredibile e sono giunti tutti al termine sotto il traguardo d'arrivo di Camigliatello affaticati ma felici di questa esperienza unica. Grazie a tutti.